WLTV, la tua tv, sul digitale terrestre e sul web. Terrificante dramma di un automobilista lentinese colpito da un malore mentre stava per uscire alla guida della propria autovettura e con a bordo i propri familiari dal parcheggio di un supermercato dove poco prima aveva fatto la spesa. Sono stati gli stessi familiari a richiedere l'intervento del 118 che è arrivato sul luogo tempestivamente. L'allerta è scattata anche per i carabinieri della stazione dei Lentini. Il malcapitato automobilista, però, nonostante il prodigarsi del personale sanitario del 118, non è riuscito a superare la fase critica causata da un infarto. Sullo luogo sono prontamente arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento dei Lentini per rimuovere la salma dello sventurato automobilista che dopo le formalità di legge è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Lentini. La notizia di questo tragico evento ha suscitato profonda commozione in città.